Siamo con Julio Duarte, il bomber dei NUX. Ci voleva una vittoria. Dopo di due o tre partite Siete una buona squadra voi, però magari qualche assenza pesata in quest'ultima Sì, sono tre o quattro giocatori infortunati che non ci sono. Si fa fatica in questo campionato? Senza cambio, in sette, poi la forma fisica è più dura ancora Oltre a forma fisica, però, tu sei il bomber, sei uscito a fare gol davanti a tuo figlio Alexis che è qua Ci voleva, se no faceva una brutta figura Ti viene spesso a vedere No, la seconda volta mi ha portato fortuna, per la prima ho fatto gol anche Cosa dice papà stasera? Poteva fare di più Poteva fare di più, vedi, lui ha un giudizio tecnico molto severo La prossima volta devi fare quattro gol Ci voleva Va bene tre, oggi abbiamo fatto tre, basta Ok, hai fatto tre, porti a casa il pallone, avete vinto la partita, avete spezzato l'incantesimo negativo Sì, ci voleva perché, come ho detto, sono tre partite che non vinciamo L'ultima partita abbiamo perso bruttamente, 8-1 Fa morale Fa morale Per continuare avanti Perfetto, complimenti per la vittoria Grazie Alla prossima Ciao, ciao Alexis Ciao